La Corte di Assise di Pesaro ha condannato Vito Cangini alla pena di 24 anni di reclusione. E' infatti arrivata oggi la sentenza del Tribunale per l'ottantenne romagnolo che 5 mesi fa uccise a coltellate la moglie Natalia Kirichok, 61 anni, ucraina, da 20 anni in Italia. L'omicidio avvenne con 12 fendenti sferrati verso la donna, uno dei quali al cuore, nella notte fra Natale e Santo Stefano, all'interno delle mura domestiche della loro abitazione di Fanano di Gradara. Si tratta dell'ultimo omicidio verificatosi nel territorio provinciale. Oggi Cangini non era in aula dove erano presenti gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi che hanno definito l'imputato estremamente provato. Era invece presente in Tribunale Cangini una settimana prima quando dichiarò il pentimento con una frase «Con mia moglie sono morto anche io». Nell'occasione il PM formulò la richiesta di condanna a 24 anni che di fatto oggi si è tradotta in sentenza per l'omicida Reo Confesso che ha ammesso il delitto fin da principio, ovvero da quando il 26 dicembre i carabinieri fecero irruzione nella sua abitazione trovandolo a fianco del cadavere della donna. Fu un femminicidio sconcertante contornato da paranoia di gelosia e tradimenti e da agghiaccianti futili motivi come il rifiuto della donna a fare sesso dopo una presunta promessa di rapporto intimo emersa dagli interrogatori. Un rifiuto che Cangini interpretò come la prova del tradimento della donna e dal quale scattò un insano gesto di violenza che oggi si traduce in una pena di 24 anni di reclusione. Grazie.